Buongiorno, sono Donatella Chiaretti, lavoro presso la Firenze 3 su Unipal DCI. Utilizzo il tablet da 7 mesi, l'attività digitale in previsita, visita e post visita ha senza dubbio elevato il livello qualitativo delle mie consulenze ed il cliente apprezza con interesse e soprattutto con soddisfazione. Il tablet ha migliorato notevolmente la nostra immagine nei confronti della clientela e di conseguenza è aumentata la mia soddisfazione nello svolgere questa professione. Con il tablet sinceramente mi sento più smart e soprattutto ben proiettata nel mio futuro professionale.